Anche i cristiani, i cattolici, i ipocriti, no? I cattolici ipocriti, no? Che vanno tutte le domeniche a Messa e poi non pagano la tredicesima, ti pagano in nero, sfruttano la gente, poi vanno al Caraibi, non solo a Papers, ma a fare le vacanze, ecco l'asfruttamento della gente. No, io sono cattolico, vado tutte le domeniche a Messa, se tu fai questo, tu dai una controtestimonianza. E questo è, a mio parere, quello che allontana più la gente della Chiesa. Anche i laici, tutti, no? Io direi, ma non dì che sei un cattolico, se non dai testimonianza. Dì, io sono di educazione cattolica, ma sono tiepido, sono mondano, chiedo scusa, non guardate i miei amici come modello, questo si deve dire. Ma io ho paura dei cattolici così, eh? Che si credono perfetti, ma la storia si ripete, eh? Lo stesso Gesù con i dottori della legge, no? Ti ringrazio, Signore, perché non sono come questo. Povero peccatore, no? Questa è la mancanza dei testimonianza. Ce ne sono altre difficoltà personali, avesse, a volte, ma il più generale è quella.